Salve e benvenuti al numero rosso di Gnam, la videorubrica che vi segnala 5 perle in ogni numero sul pensiero narrativo e la narrazione digitale. Gnam in cui la G non vuol dire nulla e il resto vuol dire ben poco, narrazione agglutinata multimediale, agglutinare, unire e fondere insieme. La narrazione è la colla dell'anima, del pensiero e della nostra società. In questo numero rosso di Gnam realizzato in grafica diversamente bella, un'applicazione, StoryDice, si tratta di una app per dispositivi mobili, disponibile per iOS e Android, che utilizza un sistema di dadi che noi tiriamo premendo sullo schermo del nostro dispositivo, ottenendo diverse combinazioni di queste icone. Si possono in questo modo stabilire determinate regole per costruire delle storie partendo da ciò che viene raffigurato sull'icona. Nel video tutorial realizzato da Luca Reina, come installare e come utilizzare questa applicazione, è esempio di come usarla anche come strumento per creare storie. L'idea di StoryDice e di tante altre applicazioni simili è quella del racconto come combinatoria che ci rimanda alle funzioni di prop o al monomito del viaggio dell'eroe di Campbell Vogler. Una risorsa per la narrazione, il pensiero narrativo e la narrazione digitale nella didattica, è una rivista realizzata con Flipboard da me, che raccoglie risorse, articoli, post, applicazioni, segnalazioni e recensioni relative al pensiero narrativo e al digital storytelling dal punto di vista didattico. Flipboard è molto comodo per creare delle rubriche digitali online da condividere con gli studenti, con gli alunni e con altre persone su temi specifici. È un raccoglitore che impagina in modo graficamente molto bello, simile a quello appunto della rivista, post. Qualsiasi cosa abbia un indirizzo HTTP sul web, può essere inserita in una rivista tematica realizzata con Flipboard, in modo che possiamo raccogliere in un unico luogo tutto ciò che ci interessa su un certo argomento. Qui vedete articoli sul digital storytelling, la prefazione famosa, la prefazione di Wuming sul libro di Henry Jenkins, lo storytelling passo per passo e così via, video, videoconferenze, webinar, libri, tutto sullo storytelling orientato o nella didattica. Si possono quindi trovare molte interessanti risorse da utilizzare. Un'altra perla sulla narrazione digitale è questo video pubblicato su The Dead di Matthew Winkler che spiega che cosa rende eroe. Si tratta di una animazione che, ispirandosi al viaggio dell'eroe di Campbell, spiega le varie tappe del viaggio dell'eroe. Basta attivare i sottotitoli in italiano per avere una traduzione molto soddisfacente dell'animazione ed avere anche un'idea molto soddisfacente del monomito del viaggio dell'eroe che è sotteso a milioni di narrazioni presenti in epoche ancestrali, nei miti, nelle religioni. E così via, un ottimo strumento per interpretare le storie ma anche per creare nuove storie che ha dato luogo al manuale di Winkler intitolato appunto Il viaggio dell'eroe che è diventato una sorta di Bibbia Vangelo per gli sceneggiatori e i narratori di Hollywood e dintorni. Un'altra risorsa molto interessante, una vera perla, è il libro di Frank Rose, Immersi nelle storie che racconta l'affermarsi della cultura convergente e della narrazione transmediale nel mondo dell'intrattenimento a partire dagli ARG come The Beast di Jordan Wiseman o il Cavaliere Oscuro, Why So Serious che hanno un po' cambiato il modo di fare narrazione ma anche il modo di giocare e anche il rapporto tra la realtà fisica e la realtà online. Come dice Jason Haller, vivere nell'era digitale significa a livello tecnico essere circondati da bit a livello umano, essere immersi nelle storie l'era digitale, secondo Haller, è l'era del racconto per tutti dove il racconto per tutti significa che anche noi, gli utenti cominciamo a partecipare alla narrazione globale della realtà cliccando sul link una recensione del libro di Frank Rose in cui si enunciano i temi e gli argomenti in discussione è molto interessante perché è una vera e propria storia di come le storie oggi vengono raccontate nell'industria dell'intrattenimento ma di come anche gli utenti, non più utenti passivi diventano coautori delle storie e si impossessano delle storie i famosi casi di Mad Men o Cameron e Lynch oppure Lost è la narrazione transmediale che gradualmente si afferma è ultima più che un'infografica una tavola interattiva, la tavola periodica della narrazione inventata e rilasciata con licenza Creative Commons da James Richard Harris nel 2014 e una classificazione dei troppi narrativi l'idea di Harris è di rendere semplici, grazie alla grafica le idee complesse la narrazione può essere vista, come abbiamo già segnalato con StoryDice come una sorta di combinatoria tra troppi narrativi cioè stereotipi e luoghi comuni che noi rimescoliamo e ricombiniamo per creare sempre nuove storie ed eccola qui la meravigliosa tavola periodica dello storytelling tradotta in italiano da Barbara Businaro che tutti noi dobbiamo ringraziare in cui ogni elemento corrisponde a un elemento della struttura narrativa esistono 11 categorie narrative, la struttura della narrazione per esempio il conflitto, la struttura tra atti e così via oppure l'ambiente per esempio gli affari importanti, la morale, la mascherata, eccetera i modificatori della narrazione i dispositivi della trama e così via gli eroi e i vari tipi di eroe che so, l'eroe vero e proprio il cavaliere nella sua brillante armatura il topo da biblioteca, l'antieroe è molto interessante perché combinando questi elementi possiamo costruire una storia o possiamo usare questi elementi per interpretare analizzare una storia in entrambi i casi uno strumento piuttosto efficace per giocare con le storie anche in ambito didattico questa concezione chimica che in qualche modo è sottesa alla tavola periodica della narrazione quella, come abbiamo detto, della combinatoria in cui partendo da componenti elementari i componenti elementari della narrazione e combinandoli si può costruire la fabula o si può smontare una narrazione nel mio articolo si danno un po' le informazioni essenziali la storia di questa tavola periodica della narrazione il modo in cui funziona e in cui è strutturata è ovviamente una segnalazione al lavoro di Barbara Bursinaro questa meravigliosa presentazione sarà a vostra disposizione metterò il link nel box descrittivo informativo sotto il video su YouTube vi lascio con queste parole di Jordan Wiseman le altre specie vanno a caccia di cibo gli umani sono animali che vanno a caccia di informazioni per raccontare storie Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori